hola amigos il video non durerà tanto con questi cappelli ciao ciao, mi hanno già finito i cappelli bene, quindi? si, ho sperato tutto il mio tempo ma niente, lo riprendiamo bene vabbè, non è caldo allora siamo qua per mangiare mangiare, mangiamo, prova di Lidl, speciale di Halloween ovviamente lo vedete già dal titolo qua, qua sopra non so se sono andato fuori col dito e allora dall'antipasto patatine adesso le facciamo subito e roba sorgiata che finiamo nel forno poi diciamo che tanto patate è torta la torta si sta già sciogliendo siamo a posto, proviamo le patatine proviamo le patatine a favore di telecamere cosa c'è dentro vediamo tu cosa hai trovato io ho un bibistello questo è la confezione come al solito la differenza tra la realtà è buono mettiamo fuoco finiamo se vado fuori fuoco è meglio di mangio comprati è buono 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 ci vediamo ciao 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 questo sembra il fantasmino, quello di Pacman, guarda la zucca è carina però non ce la faccio che bistrallo è carino il fantasmino sembra un ultra con le braccia alzate queste sono buonissime, queste le abbiamo spazzate via tutte ruote, ruote, finito basta si è finito ci vediamo verso il dolce poi c'era questo andiamo a far vedere questi li teniamo per domani ci sono due leccelecche al cioccolato questo non si vede mai in buio troppo buio un teschi cioccolatosi vabbè, ci vediamo dopo il dolce ciao ciao siamo arrivati al dolce vediamo un po' se rispetta la scatola tira la scatola che carina apri 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 che tenea non fa paura ci diamo un po' tagliato ci vediamo vediamo l'effetto taglio e la ventola cosa faccio? a vedere non so come la dico c'è la fame? non c'è la fame non c'è la fame non c'è la fame non c'è la fame bene andiamo e con questo abbiamo finito buon finito tutto salutiamo stay tuned ciao ragazzi ciao